La prima cosa che mi sento dire è che un tempo, e mi riferisco fino alla mia età dei 25-26 anni, io ritenevo che l'arte, e nel mio caso quella visiva, potesse contribuire a modificare questo mondo costruito male. Ho dovuto invece accorgermi più tardi che invece l'arte continua ad essere lontana dai momenti sociali attivi, perché viviamo in un pianeta in cui il capitalismo, sa bene, domina tutto. Non a caso, Manzoni, quando con Piasi lo incontrammo a Milano, fra le tante cose, disse, volete vedere che questi comprano anche la merda? E naturalmente l'ha fatta. Allora, qual è la mia posizione di fronte alla problematica delle arti, della letteratura, della poesia, eccetera? È una posizione che rientra in quelle attività fisiologiche di cui non posso fare a meno. Per me dipingere è come bere, mangiare, per cui quando mi sono ammalato, non ho sofferto soltanto della malattia, ma anche dall'impossibilità di lavorare. È accaduto però, e questa è una delle mie fortune, che oltre ad essere stato nel passato, perché adesso non mi ricordo un tubo, un buon lettore, ho avuto la fortuna di avere amici straordinari. E poiché io, sì, è vero, non sono un ladro di talento, ma so rubaccare un poco, per cui da questi amici io ho rubacchiato moltissimo, perché li vedevo come libri da leggere. non ho nulla del turista. Tante versi sono state in Germania e in Inghilterra. Se tu mi chiedi, e allora parlami un po' tanto per dire di Stuttgart, io non so dirti niente, perché? I miei interessi non erano per i monumenti, o che so io, ma era per una crepa vista su di un muro, per una strana pietra, capisci? Per quelle cose inutili, anche perché io sono del parere che il vero rapporto di un artista, quello che chiamiamo artista, è con l'inesistente. Diceva Paul Valéry, è quasi impossibile separare il nostro spirito da quello che non c'è. Che cosa dunque saremmo mai senza l'aiuto di ciò che non esiste? Ben poca cosa, e i nostri spiriti disoccupati languirebbero se le favole, le novelle, le attrazioni e i mostri non popolassero d'immagini senza oggetti i nostri abissi e le nostre tenebre naturali. Non possiamo agire che muovendo verso un fantasma. Per quanto riguarda la città di Napoli, ripeto, la mia attenzione è rivolta più a cose ritenute insignificanti che non ha cose solide. Però, in questa città, che poi è il luogo in cui ho operato e ho avuto amicizie veramente straordinarie, in questa città e mi sono accorto che vi sono state e vi sono ancora persone importantissime. tant'è vero che non a caso, non so se Enrico Bughi ti ha accennato a questa cosa, da una rivista americana di arte si diceva chiaramente che la vera vanguardia è nata a Napoli. ma questo non soltanto in America, ma anche in Belgio, in Germania, tant'è vero che vorrebbero adesso che posso fare una mia mostra a Düsseldorf. Se non che io alle mostre non credo proprio. E cosa dovrei... Perché si fa una mostra? Io oramai ho quasi 90 anni che devo farmi conoscere. Sono i giovani che devono fare le mostre per avere un curriculum poi da usare per altre possibili occasioni. E caro Enrico Bughi quanto morì Castellano che era il rettore dell'Istituto Patafisico Partenopeo. in verità senza fare un tubo però come persona era proprio biologicamente un patafisico. Se non che quando è morto tutti quelli che ruotavano un po' intorno a lui o altrove volerò per forza che fossi io a fare il rettore dell'Istituto. E scusami la presunzione credo che quello che ho fatto fare e che ho fatto io stesso non si trova in nessun luogo. Io mi sono inventato un foglio particolare che affrontava i problemi della forma di qualunque pubblicazione che poi costa un fottino di soldi. E dopo aver fatto per venti anni il Pataparte Pataparte perché capisci Patafisico e arte e rinnovando addirittura il simbolo primario mi sono inventato quando poi mi ero stancato del Pataparte mi sono inventato il T. che cos'è il T. un'altra forma diciamo per intenderci una rivista perché T. vale a dire perché quelli del nord hanno ancora nei nostri confronti una discriminazione ingiustificata quando si ricordassero cosa è stato il settecento che sia per la prima acienzi che si rinnovano non si ricordassero ma assicurare per la prima